Completati i lavori di via Ferrari, Pescara può ora dotarsi di una strada, una delle più importanti nelle migliori condizioni, soprattutto per quanto riguarda l'asfalto, Vice Sindaco? Assolutamente sì, una strada sicura, una strada di grande transito che quindi torna nella massima sicurezza, soprattutto con un lavoro che è stato effettuato di notte. Questa è una cosa importante per noi perché non abbiamo creato intralcio alla circolazione stradale. Assieme a questo naturalmente tra qualche giorno arriverà anche la segnaletica, per cui abbiamo bisogno veramente che l'asfalto si asciughi un pochino. Già questa notte dobbiamo partire con i lavori in via Remogna, fresatura e nuovo asfalto, ma se le condizioni meteo rimarranno queste probabilmente dovremmo rinviare di qualche giorno. A proposito di condizioni meteo, è tornata la pioggia, una pioggia comunque normale, situazione verde, alberi dopo la tempesta di vento di qualche giorno fa, qual è? La situazione è questa, diciamo che questa pioggia sicuramente non aiuta, anche se non è una pioggia battente, però cade ormai da ieri sera. Per quanto riguarda la situazione degli alberi sono sotto controllo, ma già lunedì dovremo essere pronti con la verifica dei requisiti della ditta a cui affideremo le VTA, cioè gli esami visivi e strumentali per un buon numero di alberi che riguarderanno 1075 alberi della città. È un procedimento che era partito prima di questa ondata di maltempo e che si dovrebbe appunto terminare lunedì per vederli lavorare subito in merito alla sicurezza delle piante. Grazie.